Foro un PA 2008, il ministro Brunetta chiude la Kermess, ancora poca la formazione nella pubblica amministrazione, i 40 anni dell'agenzia delle dogane, semplificazione e federalismo, l'intervista al presidente del PNIP a Pistella, la PA vista da chi la dirige, consiglia della PA, sentiamo i visitatori. Si chiude la diciannovesima edizione di Forum PA, bilancio positivo anche per quest'anno, a premiare le 13 amministrazioni il ministro della pubblica amministrazione e innovazione, Renato Brunetta. In Italia si spende poco di formazione, si spende poco per formazioni di qualità e si spende poco per l'eccellenza e quindi occorre dall'inizio, cioè dalla scuola fino alle formazioni specialistiche, avere più risorse. Questo sia per quanto riguarda il pubblico che il privato. La pubblica amministrazione già fa abbastanza, non ancora quello che sarebbe necessario. L'innovazione rimane uno degli aspetti più importanti anche per le imprese. È una giornata conclusiva ma è il principio di un grande cammino che noi dobbiamo fare con le persone che lavorano nella pubblica amministrazione, con i dirigenti e i loro collaboratori. Perché la pubblica amministrazione per noi deve essere sempre più un motivo di stimolo per le nostre aziende e per il progresso del nostro paese. Soddisfatto dei risultati della manifestazione il direttore generale Mocchi Sismondi. Io sono soddisfatto, abbiamo messo in campo alcune scommesse di riuscire a spostare l'attenzione da esclusivamente convegni classici a nuovi modalità di comunicazione, quelli che abbiamo chiamato i non convegni, i workshop interattivi, le occasioni di confronto. Ci siamo abbastanza riusciti, hanno avuto un bel successo. Certo ancora sono una parte minoritaria del nostro programma convegni ma sta in quella più promettente. 48.000 eventi formativi, 530.000 partecipanti, un investimento in formazione che rimane ancora al di sotto dell'1%. Il volume delle attività realizzate si riduce rispetto al 2006 in modo rilevante, meno 17% le ore erogate. Le partecipazioni sono aumentate nelle province, nei comuni e nelle università e diminuite in tutti gli altri comparti. Sono questi i numeri dell'undicesimo rapporto sulla formazione nella PIA presentati ieri al Forum PIA. Ne abbiamo parlato con Valeria Termini, direttrice della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Spendiamo 264 milioni di euro per la formazione della pubblica amministrazione complessivamente, che è una goccia, è intorno al quasi l'1% della massa salaria, l'87%. Ovviamente è una goccia rispetto ad altre realtà, penso alla Spagna, dove il 50% dell'intera spesa di formazione è devoluta alla scuola di formazione, come la nostra, la scuola superiore, che ha il compito però di curare anche tutti i piani formativi. Cioè c'è una strategia intorno alla formazione e noi stiamo costruendola. È un puzzle che si deve costruire, abbiamo indicatori difficili sulla competitività del Paese che mostrano anche alcuni aspetti di inadeguatezza della pubblica amministrazione. Di fatto è una macchia di leopardo, abbiamo punte di eccellenza e punte più, diciamo, più arretrate, meno motivate. Si tratta di metterle in rete e di attuare. Formazione, investimenti in capitale umano, merito, è fondamentale. 1968-2008, sono 40 anni che le amministrazioni doganali sono al servizio dei cittadini e delle imprese. Lotta al contrabbando, sorveglianza delle frontiere e tutela della sicurezza dei cittadini europei. Questi i principali compiti. È cambiato, sta cambiando tanto. Poi come tutte le cose ci si muove con grandi sogni e piccoli passi. I piccoli passi sono dettati dalle capacità di integrazione tra diversi Paesi. Quindi siamo perfettamente in linea col sistema di avanzamento tipico di un'unione che è coacerbo di diverse culture, diverse esperienze, diverse storie, diversi popoli. Una ricerca per verificare lo stato del processo di riforma della pubblica amministrazione. Commissionata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con la Regioneria Generale dello Stato, alla Fondazione Promo PA, presiduta da Carlo Scognamiglio. I risultati della PA vista da chi la dirige sono stati presentati in un convegno al quale è intervenuto anche il gius lavorista e deputato Pietro Ichino. Uno degli aspetti fondamentali emersi è quello della valorizzazione del merito. Ma ascoltiamo le parole del Presidente di Promo PA, Gaetano Scognamiglio. In positivo c'è da sottolineare che nonostante tutti evidenzino che manchino le condizioni per arrivare veramente al merito, a premiare il merito, vi è una tendenza quasi totale a considerarsi civil servant e a sottolineare il fatto che il ruolo del dirigente deve essere un ruolo al servizio esclusivo della nazione, quindi una sottolineatura del principio costituzionale. Questa mi sembra la cosa più importante, contemporaneamente una richiesta di strumenti adeguati. Questi sono i due aspetti che caratterizzano questo secondo rapporto. È attesa una nuova stagione di riforma, è auspicata una nuova stagione di riforma che tenga conto in particolare della necessità di delegificare. Semplificazione amministrativa, innovazione, federalismo sono questi gli elementi imprescindibili per rendere più efficiente e competitiva la nostra pubblica amministrazione. Sentiamo Fabio Pistella, Presidente del CNIP. Credo che siano stati fatti recentemente dei passi avanti molto significativi nella costruzione di un rapporto di collaborazione, di affiancamento di ruoli su un disegno concordato, che questa sia la traduzione del termine federalismo. Un esempio concreto è l'accordo recentemente stipulato dal CNIP per creare il sistema pubblico di connettività in sigla SPC federale. Vuol dire che l'SPC nazionale, entrato in funzione il 30 novembre dell'anno scorso, nello spazio di pochi mesi ha già acquisito tre integrazioni a comprendere la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Umbria. Questo è un primo nocciolo. Studiamo allargamenti ad altri ambiti regionali per creare questo sistema federale di strutture che nascono per vivere in maniera sinergica. Mi chiamo Giuseppe, vengo da Roma, sono qui perché sono un addetto ai lavori, mi occupo di comunicazione e il mio consiglio a pubblico e amministrazione è snellire i processi, i procedimenti burocratici il più possibile. Mi chiamo Ida, vengo da Matera, sono al forum perché vengo appena posso, quando ho tempo perché penso che valga la pena di essere informati e un consiglio è quello di formare il personale. Mi chiamo Stefano, vengo da Milano, lavoro per una società di ricerca che si chiama Forrester e vengo al forum PA per conoscere nuovi clienti, conoscere nuove persone e un consiglio che della pubblica amministrazione sarebbe quello di snellirsi, di essere più flessibile, più efficace. Buongiorno, io sono Eugenio, sono al forum PA per incontrare alcuni dei miei clienti e un consiglio che posso dare alla pubblica amministrazione è di investire nella digitalizzazione e nella innovazione del business. Mi chiamo Tracy Hutchinson, vengo da Londra, sono con un'azienda che si chiama InterSystems e sono venuta al forum PA per vedere effettivamente che cosa sta succedendo qui in Italia per quanto riguarda l'information technology, particolarmente nelle aree della pubblica amministrazione, la sanità e anche il local government. e un consiglio è valutare bene i progetti e anche l'information technology per far sì che comunque le cose funzionino per gli utenti. Sono Francesca Bela, vengo da Catania, sono al forum PA perché sono la studentessa di scienze e l'amministrazione. Un consiglio alla pubblica amministrazione è quello di essere meno attaccata alla burocrazia, senza di snellire un attimo i suoi processi spesso troppo fermi, troppo statici. Sono Maria Teresa, vengo dalla provincia di Reggio e sono anche una studente di scienze dell'amministrazione della LUMSA. Alla pubblica amministrazione do il consiglio di essere più trasparente, chiara e vicina agli utenti. Alla pubblica.